esiste in qualche parte in questo vasto mondo un vecchio libro così vecchio che i nostri antiquari potrebbero scervellarsi sulle sue pagine per un tempo indefinito senza aggiungere ad accordarsi sulla natura del materiale su cui è scritto. Il più antico documento ebraico sulla scienza occulta, il Sifra Zenyuta, è stato compilato sulla base di esso e questo avvenne in un tempo in cui questo libro era già considerato una reliquia letteraria. Una delle sue illustrazioni rappresenta la divina essenza che emana da Adam, come un arco luminoso che sta per formare un cerchio. Raggiunto il più alto punto della sua circonferenza, la gloria neffabile si volge indietro e torna alla terra, portando nel suo turbine ad un tipo superiore di umanità. Mentre essa si avvicina sempre più al nostro pianeta, l'emanazione diviene sempre più ombrosa finché, toccando il suolo, è nera come la notte. I filosofi ermetici di ogni periodo, per una convenzione fondata, a quanto essi dicono, su 70.000 anni di esperienza affermano che la materia, nel tempo, a causa del peccato, è divenuta più pesante e più densa che non fosse al momento della prima formazione dell'uomo. Che all'inizio il corpo umano era di natura semi-eterica e che, prima della caduta, l'uomo comunicava liberamente con l'universo, adesso invisibile. Ma da quel tempo la materia è divenuta la formidabile barriera fra noi e il mondo degli spiriti. Anche le più antiche tradizioni esoteriche insegnano che, prima del mistico Adamo, vissero e morirono molte razze di esseri umani, ognuno facendo posto ad un'altra. Questi tipi precedenti erano più perfetti? Qualcuno di loro apparteneva alla razza alata ricordata da Platone nel Fedro? Spetta alla scienza a risolvere questo problema. Le caverne della Francia e i relitti dell'età della pietra offrono un punto da cui cominciare. Via via che il ciclo procedeva, gli occhi dell'uomo si aprirono sempre più finché egli giunse a conoscere il bene e il male, come gli stessi Elohim. Raggiunto il suo vertice, il ciclo cominciò a discendere. Quando l'arco raggiunse un certo punto che lo portava parallelamente alla linea stabilita per il nostro piano terrestre, l'uomo fu fornito dalla natura di vestiti di pelle e il Signore Dio lo rivestì. La stessa credenza nella preesistenza di una razza più spirituale di quella a cui oggi apparteniamo può essere fatta risalire alle più antiche tradizioni di quasi ogni popolo. Nell'antico manoscritto Chi c'è, pubblicato da Brousser de Bourbeau, il popolo V, i primi uomini sono ricordati come una razza che poteva ragionare e parlare, la cui vista era illimitata e che conosceva immediatamente tutte le cose. Secondo filone giudeo, ovvero filone d'Alessandria, l'aria è piena di un invisibile esercito di spiriti, alcuni dei quali sono immuni dal male ed immortali mentre altri sono perniciosi e mortali. Noi discendiamo dai figli di El e dovremo tornare figli di El. E l'inequivocabile affermazione dell'anonimo gnostico che scrisse il Vangelo secondo San Giovanni che dice tutti coloro che lo hanno ricevuto, ossia che hanno seguito praticamente la dottrina esoterica di Gesù, cutima, diverranno figli di Dio. Questo è Isaia capitolo 12. Ebbene questa inequivocabile affermazione indica la stessa credenza. Nel Salmo capitolo 82 versetto 6 ed in Giovanni capitolo 10 versetto 34 si legge Non sapete di essere dei? Così gridò al maestro. Platone descrive mirabilmente nel Fedro lo stato in cui l'uomo era una volta e in cui tornerà ad essere, prima e dopo la perdita delle sue ali, quando viveva fra gli dèi ed era un dio lui stesso nel mondo aereo. Fin dai più remoti periodi le filosofie religiose insegnarono che l'intero universo era pieno di esseri divini e spirituali, di razze diverse. Da una di queste evolse, nel corso del tempo, l'uomo primitivo, Adamo. Anche i calmucchi e alcune tribù della Siberia descrivono nelle loro leggende creazioni anteriori a quella della nostra razza attuale. Questi esseri, dicono, possedevano una conoscenza quasi senza limiti e nella loro audacia giunsero perfino a minacciare di ribellarsi contro il grande spirito, il loro capo. Per punire la loro presunzione ed umiliarli, questi li imprigionò nei corpi e così chiuse i loro sensi. Essi possono evadere da questa prigione solo dopo un lungo pentimento, la purificazione e lo sviluppo. Essi ritengono, che i loro sciamani godano ogni tanto il divino potere originalmente posseduto da tutti gli esseri umani.